Gioffredi Gioffredi hai detto, eh? Giccio Francesco No, mi dispiace non risulti l'elenco degli iscritti Io sotto le descrizioni li ho portati 100 euro Guardi che sono buoni, non sono rubati Guarda, i termini sono scaduti poi non hai fatto neanche la prova con lo strumento Ma che ci vuole, la faccio subito Ma che fai? Forte, no? Guarda, è inutile Io non ci posso fare niente Puoi venire, per favore È urgente Allora Non ci posso fare niente Addiss-asci